Ti do il vero motivo per cui devi partecipare al webinar con i ragazzi di TestiTrade Te lo dico nell'orecchio Sentiamo perché anch'io non... No, non è vero Sì, è pieno Così, Andre Così Ma com'è possibile? Così Cioè tutto questo valore aggiunto dici che ci sarà? Tutta questa spiegazione tecnica? Andre Così Veramente? Cioè andremo in giro per Milano e ci diciamo ma tu sei quello... Sì che... Cioè si parlerà di deviazioni standard, vendita di opzioni, logiche di gestione Come gestire take profit, stop loss, andare inverted, spostando... Cioè tutta questa roba qui tutta insieme Vieno così di put